da qua possiamo stabilire il primo frame di destinazione e l'ultimo frame di destinazione dove andrà a finire l'immagine sorgente nel caso di specie dal primo al diciottesimo frame diamo applica istantaneamente e vediamo che l'immagine sorgente va a coprire le immagini che vedevamo prima in anteprima per cui in questo caso è necessario spostare lo stack di livello dove 0 è la posizione 0 che significa in cima alla pila dei livelli per cui questa è la posizione 0 posizione 1 posizione 2 di conseguenza noi per visionare la posizione 0 e la posizione 1 è necessario spostare l'immagine sorgente alla posizione 2 vedete adesso vediamo tutto diamo ok è l'immagine sorgente è andata a finire nella posizione 2 e tranquillamente è tutto visibile è andata a finire l'immagine sorgente è andata a finire l'immagine sorgente